... ... Posizioniamo il microfono cosi va bene Ok ok bella ragazzi ed eccomi tornato sono Ghostfrags e sono gasato e sono tornato con il mini fack sulla traccia se non metti like ti spacco la faccia Yo 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 partiamo subito con la prima domanda Jumbo Coluz, fuck, se potresti, se potresti, sparate su un ginocchio Se potessi scegliere tra la pace nel mondo e i soldi di Bill Gates Di che colore sarebbe la tua Lamborghini? Bella Frax Probabilmente la mia Lamborghini sarebbe bianca, come la bandiera bianca in simbolo di pace Però sarebbe bianca la mia Lamborghini, comunque bella domanda Fabri25, fuck, Frax, che scuola superiore hai frequentato? Qual è stata l'esperienza più bella che hai fatto tra i banchi di scuola? Dunque, la cosa che mi è rimasta più impressa tra i banchi di scuola È stata in primo liceo, quindi comunque E quindi comunque insomma ero abbastanza piccolo, abbastanza bimbo merda Però questa è stata l'esperienza più figa, cioè io con un mio amico Prendevamo le cannucce, ci mettiamo dentro le pezze di carta tipo insalivati E li sputavamo sia sul soffitto sia sulla lavagna Perché c'era una professoressa di matematica, che era Russell questa Che praticamente questa matematica professoressa era bassissima Cioè era veramente qualcosa di mostruosamente basso Cioè un bambino di prima elementare è probabilmente più alto Ma no, sono serio, sarà alto un metro e dieci quella professoressa È una cosa mostruosa E quindi a malapena non arrivava alla lavagna Cioè non solo non arrivava alla fine della lavagna Non arrivava proprio alla lavagna E quindi... E che cazzo? E che è successo? E quindi che succede? Che questa qua sicuramente non arrivava oltre la seconda metà della lavagna E noi con queste cose sputavamo questi pezzettini di carta Nella parte alta della lavagna E lei non arrivava per levarle Quindi alla fine dell'ora Lei c'aveva la metà sotto che scriveva sempre E sopra che era pieno di pezzi di carta sputati E non ci beccava mai E mi tagliavo tanto Matti e C.M. Brooks Fuck, qual è la tua canzone preferita? Dunque, la mia canzone preferita Allora, io sono un appassionato di rap in generale Quindi ascolto tanta musica rap Tanta, 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 tanta E vi posso assicurare che ci sono tante mie canzoni preferite nel mondo rap Però non vi voglio dire una canzone rap preferita Ma vi dico un'altra canzone preferita Che è quella che diciamo un po' più significativa per me Quella che mi piace veramente tanto Anche se non è rap È di Paul Simon E si chiama Obvious Child Scritto Paul Simon e Obvious Child Quindi la canzone si chiama così ed è veramente molto figa Quella forse è la mia canzone preferita Anche se ultimamente, proprio negli ultimi giorni Mi sto chiudendo un botto, ma veramente troppo Con Stromae o Strome O Stromee Stromee Infatti come cazzo vi pare Si chiama Stromae, si scrive E mi sto chiudendo un sacco con lui Come avete visto anche dall'intro E veramente, veramente molto, molto bravo Mi piace Massimo3890 Fuck Ma se una persona manifesta Significa che si sta masturbando PS manifesta Lo so che mi spaccheresti il cranio Bravo, bravo Complimenti Massimo3890 Ti spaccherai volentieri il cranio Però no Se una persona manifesta Vuol dire che non c'ha un cazzo da fare Sam Beatbox Perché è la stessa stempiatura Di Vegeta A forma Di M Inferiori 3 Ok Dunque In realtà non è che io ho la stessa stempiatura di Vegeta Ma è Vegeta che ha la mia stessa stempiatura Vedete? Io sono Vegeta Cioè Vegeta È Ghostfrax Vegeta Quando prima Cioè Allora c'è Vegeta normale Poi Super Saiyan No? Ecco Prima di Vegeta C'è youtuber E l'ultima domanda Ah mamma mazzo Questo coso Ce la fa Manuele Nadeo Fuck Alla partita giocherai in porta Oppure ci delizierai con le tue doti da bomber Allora Alla partita di domenica 7 Per maggiori informazioni in descrizione Sempre se non avete visto i video precedenti Per la partita di domenica 7 Giocherò in porta Ci sarà Dread Che farà il bomber A fare le skill A smarcare la gente Tipo FIFA Poi non gli riescono Ma questo è un altro discorso Intanto mi sa proprio disteso sti cazzi Proprio Stiamo dallo psicologo E io giocherò in porta Un po' perché Cioè Diciamo Gioco in porta sostanzialmente io Per tre motivi Tre Il primo È perché Il mio giocatore preferito È Manuel Neuer E quindi dato che io adoro Manuel Neuer Comunque non c'entro un cazzo Con Manuel Neuer Però comunque uno dice C'è prova Non importa Perché non se sa mai Il secondo motivo È che io non ho mai giocato a calcio In vita mia Mai Quindi comunque Se tu mi dai una palla Posso migliorare col tempo Giocando a calcio Però sicuramente Non ho le basi del calcio Quindi E nel calcio Anche nel calcetto Serve abbastanza Avere le basi del calcio Quindi dato che Non ho mai giocato a calcio Non ho mai provato A migliorare le mie tecniche Nel calcio Faccio cagare In attacco E quindi vado in porta Il terzo motivo È perché Quando abbiamo deciso Con i miei amici Di iniziare a giocare a calcetto Di frequente Diciamo Di metterci a giocare a calcetto Io non ero buono Tutti quanti Cioè Molti di quelli Che giocheranno Pure la partita Giocano in serie A A calcio a 5 Voglio dire Quindi Quando gioco con loro Cioè Loro giocano bene In attacco Comunque insomma Giocando proprio a pallone E io O guardo la partita Oppure Ho provato a far portiere Quindi Diciamo che Non ho mai giocato a calcio Nessuno mi ha mai insegnato A fare il portiere Però Essendo 2-3 mesi Che gioco con loro A calcetto Diciamo che Non è che me la cavicchio Però Comunque Mi piace giocare in porta Quindi mi vedrete Giocare in porta Ma a me piace Veramente tanto Comunque Il fuck you time Anzi Il mini fuck you time È finito Come sempre Vi invito a lasciare Un cazzo di mi piace E vi spacco il culo Brutti Pesci di merda